Cari amici, stiamo vincendo! Sabato 23 maggio. Ascolto la trasmissione Petroglio su Rai 2 e sento accenti nuovi. Parla il famoso professor Zangrillo, il quale ci dice che non siamo di fronte alla peste nera, ce ne eravamo accorti, e poi inizia a parlare anche del fatto che i pazienti non devono andare in terapia intensiva, non devono andare in terapia intensiva, vanno curati prima, bisogna intervenire prima, che non è così importante ampliare il numero dei posti di terapia intensiva, perché in terapia intensiva non si va, non si deve andare per coronavirus. E poi ci parla anche di ventilatori cinesi che prendono fuoco o che esplodono nelle vicinanze dei pazienti. Ventilatori cinesi, ventilatori cinesi, ventilatori cinesi, ripeto. Non so se ci siamo, se avete capito, ma la cosa più bella sapete qual è? E' più interessante? Voi pensate che il dottor Zangrillo e tanti altri dieci giorni fa o una settimana fa non sapessero queste cose? Le sapevano benissimo, le avevano ben chiare in testa, ma non avevano il coraggio di dirle, di dirle pubblicamente in tv su Rai2 davanti a milioni di persone. E sapete perché? Perché erano minacciati, erano minacciati. E oggi invece si sentono di fare queste dichiarazioni. Il vento sta cambiando, il vento sta cambiando. E i dittatori foggiani adesso come faranno? Gli mancano i morti, gli mancano i morti, gli mancano i morti, troppi pochi morti. Niente stato di emergenza. Fino a gennaio 2021, caro Conte, preparati a rimanere in mutande. Dovrai versare risarcimento milionari. Non farai mai i soldi che dovrai versare neanche se torni a fare l'avvocatuccio e fai l'avvocatuccio per 800 anni. A presto!